consueto video di fine settimana una settimana cruciale tanto per cambiare storica ancora una volta perché questa settimana la fed ha per la prima volta dopo in pratica tre anni rialzato i tassi portandoli dallo zero il primo quarto di punto e dando un programma appunto di rialzi fino alla fine dell'anno quindi politica monetaria diventa restrittiva la cosa era stata anticipata però è chiaro poi finché non arriva la decisione finale non arrivano i dettagli non si sa mai poi le cose come possono andare il mercato si era preparato a questo evento e infatti questi sono i video da lunedì a giovedì lunedì decollano i rendimenti bond e nasdaq al tappeto qui oltre alla preparazione alla decisione della fed c'era anche la notizia del lockdown in cina che avrebbero potuto il mercato ha ritenuto potranno portare ulteriori problemi alle catene logistiche quindi ulteriori pressioni sui prezzi quindi ulteriori tensioni sull'inflazione insomma bond e nasdaq qui lunedì sono andati male poi martedì angseng tocca i minimi storici questa è la giornata prima della riunione della fed e qui nella notte tra martedì mercoledì intervengono le autorità cinesi quindi primo colpo due colpi ai mercati negativi dati dall'attesa sui tassi in rialzo e dall'otta in cina qui ci mette la pezza il governo cinese tra martedì e mercoledì dove annuncia che darà supporto al mercato quindi il mercato che appunto il giorno prima aveva toccato langseng soprattutto che è carico di titoli tecnologici aveva toccato il minimi dal 2016 quindi una situazione che stava diventata già molto pesante e quindi questo questo questa notizia di voler dare sostegno ai mercati di voler togliere pressione alle società tecnologiche ha provocato un rally mostruoso come abbiamo detto qui nella giornata di mercoledì che ha fatto passare in secondo piano anche quello che è stato poi l'esito della riunione della fed che comunque era in per la stragrande parte degli effetti già scontato dal mercato comunque qui nella giornata di mercoledì l'ha fatta da padrone il rimbalzone del dei titoli cinesi vediamo qui il proprio langseng per far vedere che negli ultimi tre giorni questo il famoso minimo di cui parlavamo il minimo di martedì il minimo dal 2016 e si è fatto un rialzo del 47 per cento 47 per cento in tre quattro giorni quattro giorni ecco questo per dare l'idea l'altro giorno abbiamo fatto vedere i titoli principali uno per uno fra un po guarderemo perché anche oggi la cosa è continuata e quindi tra ricoperture e ovviamente poi trader che si sono messi a ruota questo movimento violentissimo comunque per la maggior parte ricoperture qui sicuramente c'era uno scoperto notevolissimo e quindi anche poi l'altra notizia importante è stata quella di voler ottemperare a quelle che sono le richieste della sec la l'agenzia lente di controllo americano della borsa per evitare il del listing dei titoli cinesi dal dei listini americani insomma per farla breve ecco tutto questo chiaramente ha ha portato su non solo i titoli cinesi ma a ruota anche i titoli tecnologici fra poco lo vedremo poi nella giornata di giovedì ecco il movimento è continuato ieri abbiamo dedicato il titolo al petrolio e argento alle commodities che nel frattempo hanno completato un pullback rispetto ai massimi della settimana precedente quindi gli indici completano il rimbalzo verso gli obiettivi di ritracciamento ma solo i fuzzimi ben parte il dax mostrano candele di stallo candiele candele di reversa adesso lo vediamo nei dettagli quindi questo è stata un po l'andamento della settimana questo è l'anseng oggi la cosa è ancora continuata se andiamo a vedere le chiusure in america questo è un estratto dei titoli dei principali titoli in america vediamo ancora una volta di di più 59 per cento però vedete questi sono titoli che chiaramente se tu da 18 vai a un dollaro poi quando e no e quindi praticamente perdi quello che sarà 80 90 per cento il giorno che poi da un dollaro vai a 4 dollari fai il 400 per cento in tre giorni ok però sei a 4 ed eri al 18 nel mese di luglio quindi vediamo sempre le cose in prospettiva come di come vi dico non facciamoci mai impressionare dalle percentuali e poi quindi poi qua si sono accodati titoli americani che non c'entrano niente coi cinesi però siccome tutto questo settore è stato compresso per la questione dei tassi per la questione delle valutazioni eccetera eccetera quindi è stata l'occasione per un mega rally per un short covering ricoperture quindi shopify oggi si fa un più 18 per cento buca la volatilità stop line però guardate il movimento guardate quanto spazio c'è questo potrebbe partire uno snap potrebbe essere partito uno snap back come si suol dire verso la media 200 non sappiamo fino a dove può arrivare io ho dei dubbi è per tutta una serie di situazioni però comunque ecco il trigger qui c'è stato ci sono anche i volumi in aumento può anche darsi che questo movimento continui square stessa cosa guardate questi sono tutti i titoli che hanno andamenti simili andami tutti questi titoli del settore tecnologico questo è un ribasso del 71 per cento negli ultimi mesi e via su così docu sign docu sign un altro titolo decimato da 320 dollari è venuto giù fino a 70 dollari questi sono i famosi titoli della pandemia no quando appunto i titoli che hanno raggiunto quotazioni astronomiche perché appunto dovevano essere favoriti da quello che era la necessità di lavorare a distanza eccetera eccetera alibaba molto famoso molto titolo in tanti portafogli di tanti amici vediamo nel dettaglio ecco questo è un altro titolo che è stato assolutamente decimato negli ultimi mesi qua il 27 ottobre del 2020 era quota 320 e un paio di giorni fa abbiamo toccato il meno 77 per cento e questa in teoria è una società che non va neanche male no quindi questo per dire questo rimbalzo gli ultimi tre giorni minimo sindacale per titoli del genere però si prospettava il delisting e quindi era avevano raggiunto quotazioni molto molto basse ma continuavano a fare nuovi minimi perché da diversi mesi che molti trader scommettevano questo il minimo questo il minimo e no non era il minimo siamo scivolati prima 200 poi a 150 fino appunto arrivare a 70 l'altro giorno quindi via così qua stessa cosa momo è inutile ora che andiamo a vedere tutti quanti tencent altro titolo cinese net is oggi più 59 insomma se abbiamo questo panorama per cui poi ci si è accodato ci sono si sono accodati anche i titoli tecnologici del nasdaq si è accodata la speculazione si sono accodati i nostalgici del 2021 oggi gamestop più tre e mezzo per cento vi ricordate vi ricordate che in stop a gennaio 2021 poi a marzo quello che da 4 dollari passo a 500 che la sconfitta del legge fan che era short tutte queste storie qui quindi oggi si è risvegliato dopo settimane mesi di letargo gamestop più tre e mezzo ma in giornata prendeva anche il 4 5 per cento ecco questo per inquadrare un po la situazione e dare la prospettiva per cui alla fine è nasdaq più 2 per cento però quando poi andiamo a vedere ora la situazione generale cerchiamo di stiamo un attimo nel contesto generale il contesto generale per dobbiamo cercare di fare la tara quello che il noise il rumore perché questo è rumore chiaramente no c'è la riunione della fed che mi porta volatilità il la decisione cinese non aspettata e rally dei tecnologici e poi le scadenze tecniche oggi c'era il il triple which come si giorno delle tre streghe come si suol dire quando scadono contemporaneamente opzioni future opzioni sui titoli sugli indici c'è una scadenza contemporanea nel mese di marzo giugno settembre dicembre un giorno molto importante dove ci sono sistemazioni per miliardi di dollari sistemazioni di posizioni quindi questo è tutto noise adesso dobbiamo vedere la settimana prossima adesso che si deposita un po' di questo polverone che cosa rimane di questo strappo di quattro giorni prendiamo ad esempio il nasdaq che finisce la settimana e che la chiusura la settimana è molto importante su un livello di resistenza importante quasi tutti finiscono su livelli di resistenza importanti volatiliti stop line che scende che ha incrociato al ribasso la media 200 questo è un segnale bearish di medio periodo quindi è molto importante vedere ora cosa fanno i prezzi se quest'area farà da resistenza oppure no perché se riesce a recuperare la media 200 e tornare sopra allora qui il quadro tecnico cambia per il momento il quadro tecnico resta negativo come confermato dal dmi negativo che è stato in controllo e lo è tuttora anche se oggi è andato a toccare il positivo ma questa è una cosa che succede ogni volta che c'è il ritorno sulle medie quindi il comportamento da qui in poi sarà molto importante continuate a seguire la settimana prossima consiglio l'iscrizione al canale youtube per chi segue da youtube in modo da ricevere gli avvisi gli aggiornamenti e le notifiche ci siamo fermati quindi per il nasdaq sulla volatiliti stop line sul 38 per cento di ritracciamento questa linea bianca che vedete il 38 per cento di ritracciamento di tutto il movimento impulsivo che è sceso fino al 15 marzo per chi segue quello che abbiamo visto prima è l'etf delle 3 q per chi segue l'indice stiamo parlando di un target possibile a 14 7 abbiamo chiuso la settimana 14 4 quindi in teoria c'è ancora un po di spazio in su per raggiungere lo 0 5 di ritracciamento e la volatiliti stop line che sta scendendo più una resistenza grafica importante che passa a 14 7 quindi il target lo vedrei per il nasdaq un po più in su mentre per esempio per il dow jones il target è stato raggiunto oggi il dow jones aveva come target l'area 34 mila 700 che corrisponde a 347 qui ci sono sempre i due decimali si ottiene l'indice l'avevamo disegnata ieri e ci siamo arrivati oggi facili profeti c'eravamo già quasi comunque un movimento che ha conti e proseguito generalmente questi movimenti hanno una certa inerzia anche se poi perdono rate of change guardate la distanza tra i pallini quindi forte il primo giorno meno forte il secondo meno forte secondo meno forte ancora il quello di oggi scusate secondo il terzo il quarto guardate la distanza e reto change che cos'è è il progressivo cioè la percentuale di incremento giorno per giorno quindi si vede che questo è per il momento un rimbalzo che ha perso momentum ha perso rock mentre saliva e ha perso anche volumi perché i volumi sono andati calando quindi anche dal punto di vista di questa analisi anche se qui vediamo le bellissime candele gialle però stiamo arrivando ecco in frenata a questa resistenza per cui la settimana prossima io mi aspetto un test di questo livello e da qui capiremo se a sorpresa non sappiamo ancora bene per quale motivo però noi qui guardiamo l'analisi tecnica se a sorpresa questi indici si dovessero rilanciare nuovamente verso la fascia alta dico a sorpresa dopo aver bucato la media 200 dopo aver ha dato tutta una serie di segnali tecnici negativi anche se il dow jones diciamo di fra tutti e il meno il meno negativo proprio perché qui abbiamo ancora la media piatta e abbiamo l'incrocio appena effettuato situazione l'incrocio della volatilità di stop line con la media 200 situazione diversa per il russell l'indice delle piccole e medie imprese americane che la media 200 l'ha salutata già nel mese di dicembre testata più volte ecco questo è il fenomeno che potrebbe verificarsi anche per il dow jones no cioè la media viene bucata testa c'era diversi tentativi prima di staccarsi da questo livello che è molto importante che fa da magnete e quindi il russell lo ha lasciato appunto la media 200 l'ha lasciata già flette abbastanza nettamente per il russell il re che si è accodato ovviamente rally al rialzo rimbalzo rialzo target potrebbe essere la famosa area 210 che abbiamo visto più volte in passato il dax veniamo un attimo adesso all'europa il dax situazione simile siamo venuti a target si è diciamo gli ultimi due giorni ecco rispetto all'america ci siamo un attimino scollati vedete come qui in realtà è da tre giorni infatti ieri titolavamo che gli indici europei erano gli unici che sul candlestick avevano dato con un piccolo segnale era un piccolo segnale perché questo è una candela inside che in certo punto della giornata era un piercing ma diciamo debole ecco non era non era un grandissimo segnale di reversa oggi ce n'è stato un altro questo è un altro segnale di debolezza perché un hanging man quindi una figura che appare una candela scusate che appare spesso alla fine dei dei movimenti impulsi rialzisti quindi a conferma che in questa fascia di resistenza dove c'è il 50 per cento del il tracciamento del 50 per cento del movimento impulsivo c'è la volatilità stop line e e ci sono e c'è anche un obiettivo grafico insomma è una confluenza di di target che per il momento il dax ha rispettato si è fermato vedete che infatti che non è riuscito a incrociare il dmi il meno col più non si sono neanche toccati anzi il dmi negativo oggi si è riaperto quindi un segnale in più di incertezza di debolezza per gli indici europei come è anche normale che sia in un periodo del genere ecco quindi questo è un po il fuzzimib gli diamo un'occhiata stessa cosa anzi siamo un attimino indietro rispetto alla volatilità stop line fuzzimib ovviamente risente del peso dei bancari che hanno avuto una debacle notevole soprattutto con l'inizio della crisi geopolitica unicredit intesa sono state direttamente impattate dalle dalle sanzioni dalle conseguenze delle sanzioni per i loro interessi appunto per il loro business nell'area colpita dalle dalle sanzioni ecco un occhiata ai rendimenti il rendimento come da manuale e questo il rendimento del decennale americano si è portato sui massimi di periodo conformemente alle attese di stretta della fed pausa di tre giorni il target rimane due tre anche qui piccolo fleghino che si vede meglio sull'intraday e anche qui io mi attenderei appunto il raggiungimento di questo target prima di una eventuale pausa generalmente ricordate sempre il principio del by the rumors sell the news significa che i mercati si portano avanti nel senso quando la fed sopra la fed soprattutto ormai da un po di tempo gestisce le aspettative cioè preannuncia quello che farà in modo che i mercati si possano adeguare evitare volatilità eccessiva e quindi poi molto spesso accade che dopo l'annuncio c'è un una chiusura di posizioni perché posizioni che vengono aperte sul sulle voci poi vengono chiuse al momento della notizia quello che continua chiaramente a pesare che continuerà a pesare l'inflazione fino a quando vedremo i prezzi del petrolio stazionare ecco dal punto di vista tecnico il nostro riferimento è area 95 che ha fatto da supporto ha visto il petrolio ripartire verso l'alto a prescindere dal fatto che troverà la forza o meno di fare un ritest dei massimi in ogni caso restiamo sempre su livelli elevatissimi fuori dal canale rialzista e quant'altro quindi tutto questo continuerà a pesare sulla situazione generale va bene siamo quasi alla fine del tempo questo è un po il punto di situazione di fine settimana spero sia stato chiaro lasciate pure nei vostri commenti eventuali segnalazioni di situazioni interessanti lasciate pure i vostri like che aiuteranno i video ad essere visti anche da altri amici per il momento è tutto vi auguro un buon fine settimana grazie come sempre dell'attenzione del supporto che date i canali e appuntamento a lunedì